Un signor Bruschino al Teatro Olimpico di Vicenza, perché? Perché rientra nel progetto delle 5 farse di Rossini, Rossini giovanissimo, debutta a Venezia 1810 con la cambiala di matrimonio. Una farsa è un'opera in un atto, praticamente lui ne scrive 5 per il Teatro San Moisé e noi qui da quest'anno a Vicenza abbiamo intenzione di riprenderne una all'anno e abbiamo l'onore di collaborare con il Teatro La Fenice di Venezia e riprendiamo l'allestimento che Beppi Morassi ha fatto delle 5 farse al Teatro Malibran. È un'occasione particolare, molto bella, perché le farse si intrecciano con il progetto invece della trilogia mozzartiana Nozze di Figaro, Don Giovanni e così fan tutte e quindi abbiamo questo ciclo praticamente di 3 anni, di 5 anni che si interseca. In particolare il signor Bruschino quest'anno va in scena il sabato 6 giugno e il sabato 13 giugno con due rappresentazioni, una all'euro 18 e una all'euro 21. L'altra collaborazione importante per questo signor Bruschino e per le prossime altre farse che dovremo produrre nei prossimi anni e anche con i conservatori del Veneto, infatti il cast è tutto fatto da giovani selezionati tra le scuole di canto dei 7 conservatori del Veneto. Quella dell'attenzione ai giovani è una costante del nostro festival perché da sempre abbiamo dato spazio a cantanti giovani, soprattutto italiani naturalmente molti sono già in carriera, muovono i primi passi, magari vengono da noi per debuttare ruoli più importanti, non hanno ancora avuto occasione di cantare in altri teatri. In questo caso invece però ci è piaciuto proprio dare un'opportunità ai cantanti dei conservatori del Veneto devo dire che peraltro il cast selezionato è anche di ottimo livello quindi se uno li sente sicuramente non pensa che siano magari studenti del conservatorio sono maggior parte allievi di bienni superiori quindi sono già diciamo dei giovani professionisti e hanno così in questo modo l'opportunità di cantare in questo teatro meraviglioso ricordo che è il teatro più antico del mondo, risale al 1595 ed è di una bellezza incredibile, non so se alle mie spalle si riesce a vedere qualcosa però è un posto veramente unico al mondo. La collaborazione con Beppi Morassi? La collaborazione con Beppi Morassi è oltre che un onore a livello professionale è un grande piacere a livello personale perché siamo amici abbiamo già collaborato al Teatro della Fenice per il Lombier di Siviglia, per il Disir d'Amore e quindi ritrovarlo qui a Vicenza dove io sono direttore artistico da tanti anni ormai per me è una cosa anche così molto bella che mi fa veramente molto piacere poi con lui si lavora sempre benissimo, con grande rilassatezza e con grande, oltre che grande professionalità, anche con grande simpatia e tutto questo poi si sente anche, si vede sulla scena se abbiamo instaurato un bellissimo rapporto con tutto il cast ecco penso che anche il pubblico poi potrà apprezzare questa atmosfera bella, produttiva che abbiamo instaurato.